Buon fine settimana a voi tutti da Marcus, buon venerdì 25 agosto, serata di estrazione questa sera, siamo alla quindicesima del mese, ottavo colpo questa sera per questa previsione consigliata su Milano-Napoli, abbiamo visto il motivo di questa previsione, è inutile ripetervolo in continuazione, che poi mi dite che sono ripetitivo, ma per farvi capire che questa previsione secondo me dovrebbe essere portata ancora avanti stasera e se non dovesse uscire stasera, domani sabato, le frequenze ci sono, la condizione c'è con la bata contata, ci sono avete visto più di 6-7 condizioni che portano a 77 e 79 e portano anche una frequenza più che ottimale su Milano e Napoli, speriamo bene, allora molti hanno il dente avvelenato per questa condizione, lo so bene anche io, il sottoscritto l'ho anche lui, perché veramente una condizione così forte che non esca, veramente può dar fastidio a tutti, però ragazzi, ve l'ho sempre detto, una condizione sola qua su Youtube, non ne sto dando altre, è stop, poi cosa volevo dire, le vostre amate contate comunque vanno sempre, non parliamo di Nonopino perché veramente siamo a dei livelli pazzeschi, è un'estrazione, Nonopino becca sempre, guardate questo 70 di Bari, ve lo faccio vedere subitissimo, e quindi poi andiamo a concludere già il video perché è inutile che vi faccio vedere sempre stesse cose, guardate qua, io l'ho già giocati, vedete, Ambo e Ambetto e poi la condizione del Milano-Napoli con l'altra ambata che potrebbe collegarsi con questa del 77 e 79, il 70 di Bari, vedete, qualsiasi numero voi scegliate, allora, il 70 supera le 55 caselle, per farvela breve, perché se partite da Bari dal primo estratto e arrivate qui a Venezia e tornate su, sono 55 volte, e inutile farla contro 5 e 10 e andare avanti, il 70 supera le 55 caselle, 55, 60, 65, 70 arriva Genova e Palermo, ma dovrai giocare anche l'estratto 7, suo vertibile e poi Lambo e Lambetto, guardate in quanti colpi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriva al 7 a Palermo, e come al solito non ho più, ne gioca uno scontrino, ne gioca un po' di più, guardate qua cosa ha beccato, e quindi, avete visto, non c'è questione da dire, la condizione consigliata è ancora questa, è vero, 77 e 79, siamo a 8 colpi questa sera, vi ripeto, ci sono delle persone che giocano dei gran mensili e poi magari non escono nemmeno quelle, quindi, sul mio canale è così, una condizione che si porta avanti, si segue e poi se non esce niente, pazienza, avete visto comunque il 65 di Bari è uscito nei due colpi, e poi ci sono scappati i due ambetti, allora, 77 e 79, rivediamo ancora una volta i schemi, guardate le frequenze del 77 e 79 di Napoli, 77 e 79 di Milano, e poi, guardate qua, tutte le ambate contate, le posizioni del 77, perché il 77, come vi ripeto, dovrebbe essere proprio l'ambata chiave, e poi, una volta sbloccata la situazione, dovrebbe poi continuare a uscire 77 e 79, perché vi ricordate come faceva con il 90, quando si carica la molla, poi, quando si sblocca questa molla, di continuo per 7-8 volte, 7-8 strazioni, si possono ripetere anche 4-5 volte questi numeri, per quello vi dico, attenzione, può darsi che questa sera sia una situazione di sblocco, io ve lo dico, e, oppure, sabato, quindi, portiamo pazienza, si può spendere poco, seguendo una sola previsione, in questo caso, come nel mio canale, e boom, poi, ragazzi, io ce la sto mettendo tutta, vedete che ogni estratto va a segno, se arriva prima, che arriva dopo, ci arriva, adesso, qua, eravamo partiti da 8 colpi, quindi, stasera siamo, e quindi, è come se fossero 16 colpi di gioco, 16-17 colpi di gioco, per un'ambata contata, che può arrivare fino a 18 colpi, adesso, forse, esagerato, 17, forse, siamo a 15-16, comunque, vabbè, mentre, invece, i colpi di gioco reali, che abbiamo iniziato a giocare, sono 8 questa sera, quindi, attenzione, tutto non è perso, le condizioni ci sono, e quindi, secondo me, guardate poi l'incrocio che ci sono, fra il 9 e il 70, guardate quante cose ci sono, è impossibile, veramente, che non possa uscire questa condizione, previsione, previsione, sempre questa, 77-79 ambo e ambetto, estratti Milano-Napoli, 77, estratto 79 Milano-Napoli, unica condizione data su YouTube, poi, come vi ripeto, quella data in privato, per il gruppo Monati, comprende un'altra ambata, in collegamento con il 77-79, ci risentiamo questa sera, probabilmente, se non mi sentite sono in giro, oppure, vedremo se trovo un po' di tempo, per vedere cosa succede questa sera, nella condizione, io spero, vi faccio augurio a tutti voi, e, e boh, io li ho giocati, i numeri vi ho fatto rivedere, ve lo faccio rivedere ancora una volta, la condizione di oggi, ambo e ambetto, vedete? Per cui, noi ci riaggiorniamo, alle prossime news da Marcus è tutto, ancora, tanta buona fortuna a voi tutti, ci sentiamo!